Chi è il Macchè, il nostro grande amore! Ecco, voi vedete lui, vi ando con il motorino, passiamo a lui, guardate il suo riorino, un applauso per il Macchè! Per il Macchè io l'ho voluto fortemente perché è poesia, perché è un grande scrittore e vuole condividere con noi la nostra, la sua cultura, la sua storia. Allora, per il Macchè, il tuo ultimo successo, il successo, perché giustamente lui è uno che va contro con lui, però per il Macchè, il tuo ultimo successo. Il Macchè, il Macchè, il nostro grande amore! 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 E' più un rito! Non avrai fatto una cosa No non mi so! Ma non mi so! Non mi so... Ma penso che le altre non stanno Ho capito! Che ne ha chiedeva! Ma quando tu dici una cosa del genere a un signore che pensa a un gioco Ma non mi fa... Lui! Che ti può rispondere! Allora... Che ti è! Grazie, grazie. Arriva. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Adesso invece, grazie. A Lucia, a Lucia. A Lucia, a Lucia. A Lucia, a Lucia. Maria non c'è? Eh? Ci facciamo una canzone? Eh dai, dai, dai. Allora, guardami e venga per me. Una bella canzone su di me. Una cosa veloce e veloce, però, dai. Questa così, eh. Posso mettere più qua? Vai. Ma, hai una cosa veloce e veloce. E che successe? E che successe? Sì, io Sì, io Attre. E che successe? Sì, guarda, sono un tipo che non si offende, però già stai pensando, io cosa sto pensando? Sì, sì, stai pensando, sì, perciò, 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 ma non fai più. Ragazzi, che cos'è? Alla deliglia, alla deliglia. Ma dove stiamo? Noi non lo so, è vergonia.